Allora, mi hai spiegato il ponte, ho fatto disegno, la correcchia, ho subito troppo il ponte a sinistra, la prima è a sinistra, il ponte a diritto, poi all'incrocio, continuando, all'incrocio a sinistra, Ponte, diritto e poi a sinistra, il numero è questo, numero 10, 081 859, ok? Quasi è, quasi è. Si già accompagnati, si già...